Che si fa domani? Qual è il programma? Non ci dovremmo assorbire un altro castello? Oh no, domani sono in vacanza. Domani libera uscita di giorno e teatro la sera. Ah, bene. Teatro? Ah, tutto rock'n'roll allora. Beh... C'è la prima di mio figlio. Suo figlio è attore? Sì, fa la parte di Gesù. Gesù? Sì. De Nazareth? Eh sì. Che c'è? Beh... Beh... Gesù era nero, veniva dall'Aft. Lo dice la Bibbia. Gesù aveva i capelli d'agnello, cioè i capelli crespi. Quindi era nero. Eh già. Si sa come va. Ogni volta che ci sono grandi uomini africani, li sbiancano. Come Beethoven. Beethoven era nero? Naturalmente. Beethoven nero. Qui si passa il segno, mi sa. E mojarter a berbero? No! Aveiro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.